musica 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 non so se qualcuno di voi cantanti magari c'è qualche cantante che fa musica musica che ogni tanto fa qualche io c'ho il cono dove vuoi che fai delle notte dell'accordo proprio musica sempre fa u a a per dire l'importante è che decidiamo il fonema perché se non fa schifo se uno fa u l'altro fa a per cui secondo me è bello se diventa u a a a a a a a a l'ultimo niente l'ultimo vuoto a 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 non è uno che ha le gambe lunghe tu hai le gambe troppo lunghe hai un busto corto sono come i mappets come un mappet tirato su un zio rock and roll a 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